Ciao, sono uno sviluppatore di videogiochi, ho visto che tratti The Binding of Isaac nei tuoi video Penso che potresti essere interessato al mio gioco Animal Rogues È un dungeon crawler roguelike Se vuoi provare la demo l'ho appena rilasciata su Steam Che figata allucinante E andiamo su gioca su questo nuovo Animal Rogues Possiamo scegliere il nostro animale Apodemus Allora quindi abbiamo il topolino La rana Il gatto Feliscatus E l'Oryctalagus Chiaramente il coniglio, sì Io vorrei la gallina però Gallicus Potremmo andare col gatto Con chi andiamo ragazzi? Gatto Felix Maximus Ho solo 15 di vita, ok Qua Danni più 6, raggio meno 8 Devo pagarli con i girasoli, credo Posso rerollare con 7 girasoli Non sono girasoli, sono... come si chiamano questi fiori? Danni meno 2, fortuna più 10 Danni meno 2, tempo di attacco più 10 Tipo un fire rate Danni più 6, raggio meno 8 Cos'è il raggio? Ho già il raggio 0 E tempo di attacco più 10 Ci diminuiamo un po' i danni che ci siamo appena aumentati per aumentare il fire rate Va bene Chiudi Ok abbiamo un raggio molto basso Però spariamo più velocemente a quanto pare Oh fuck Ma che cosa strana Oh mio dio Aiuto Oh ma è difficilissimo Scusate Perché c'è un cespuglio di rose? Piano Ok Madonna santa Ma è uno struzzo questo Qua c'è una chiave Oh Gesù che casino Ah No Aiuto Oh Cristo Ah ok Con la frutta mi cura a quanto pare Questa ragazza è una demo Non l'ho mai provato prima volta In vita mia questo gioco ancora E Cioè la prima volta E anche perché è appena uscita la demo Vediamo di usare questo patto col diavolo Abbiamo sprecato 5 di vita per 1 danni Attacchi excreti al 90% Critico per 3 Esistenza? Il fatto di esistere è una statistica Danni più 2 Attacco alleato Chi sono gli alleati? Danni più 3 Attacchi proiettili al 90% Dai questo questo mi piace Anche perché ci dobbiamo aumentare un po' il range Very nice Però ora continuiamo così Dai vediamo Vediamo dove riusciamo ad arrivare Oddio mi si è anche cambiato il raggio a quanto pare Qua cos'è? Attacchi proiettili più 1 Ruba vita più 20 Attacchi excretta Attacchi proiettili più 1 Ora ho più proiettili No forse sparo più velocemente Eh vabbè sono un po' da capire le statistiche raga Mi sa Ho usato una chiave per aprire questa cesta Che mi ha dato un po' di fiorellini Va bene È molto intrigante Cioè è strano Devo ammettere che è strano Però ha un suo circa fascino Ricordo a tutti che queste sono una demo Ah fuck Piano 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 Madonna quanti ce ne sono Fammi scattare via Non fate male le mie appenni Perché non muoiono? Ah qua sopra c'è un portale Questa è una slot machine C'è il gambling anche qua No Eh ragazzi il gambling Quando ti prende Ti prende Poco da fare Qua c'è un'altra chiave Perché lo struzzo C'è tipo uno scudo addosso a lui È particolare Ma vi giuro Non è male eh Questo qua caro Francesco È un gioco Che uno sviluppatore Italiano indipendente Mi ha proposto per mail Che è un progetto Fatto solamente da lui E sembra essere molto interessante E questa è la demo Che ha rilasciato Un paio di giorni fa su Steam Che mi ha proposto appunto Di provare a giocare Facciamo che ci prendiamo 20 di ruba vita Che secondo me è tantissimo Così almeno non rischiamo Di morire Qua possiamo bere Per guadagnarci 10 di vita Ma non ci preoccupa Perché abbiamo ancora La vita al top Qua si vede l'esperienza Su The Band of Isaac Dopotutto no? Cambiamo Questo è non comune Salute massimo meno 2 Critico più 10 Va bene Credo che ora Andando su questo portale Qua in alto Andiamo al prossimo piano Se è un roguelike Dovrebbe funzionare a piani Credo Prima un altro po' Di gambling ragazzi Andiamo nel prossimo piano Stanza qualcosa Andiamo Oh Semplice semplice Oh Non pensavo ci fosse un boss Che è un dodo questo Cioè potevo immaginare Effettivamente Che ci fosse un boss Però pensavo fosse Semplicemente il prossimo piano Invece a quanto pare No Piano 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 Dammi quel peperone qua Per recuperare un po' di vita Abbiamo l'anguria Non sto però facendo in tutto ciò Male al boss Ah ora si Difficilissima sta cosa Eh ragazzi Muori Muori Anitra Ok Oh Cristo Ah Lasciamo qua un portale E usiamolo per teletrasportarci Quando siamo dall'altra parte Per far Per attaccare Il boss Aia si prende un sacco di danni Aia Aia Ho solo 6 di vita Dai un Un peperone Un pomodorino Un'angurietta Qualcosa Tentrasportiamoci qua E facciamo danno un po' al boss Attenzione Ah piano Quanti ce ne sono Sto sopravvivendo solamente Perché ho un sacco di ruba vita E quindi Mi curo facendo fuori i nemici Ah No Tentrasportati qua Mamma mia Lascio il portale qua Eh sono utili i portali Effettivamente Devo prendere quell'anguria Non pensavo mai Di dover dire questa frase In un gioco Con animali Che combattono Dai Dai che è più piano il boss va giù Shish No non è malissimo Sono d'accordo Che è difficile È difficile eh Proviamo un altro animale Dai Schivata velocità Fortuna 100 Il coniglio Stacchi è scritto a velocità Andiamo col coniglio La sfera spara 3 proiettili Uh La sfera La sfera spara 3 proiettili La sfera spara 3 proiettili Uno è non comune E uno è comune Ma andiamo col non comune Nice Ok 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 Nice Servirebbe ora un po' di cura Gentilissimo Una chiave La sfera spara 3 proiettili Quindi ora ne spara Ne spara sempre 3 Che scam Sono stato scammato E sono anche morto Col coniglio Ah Ridu La voglio almeno sconfiggere Il primo boss Dopo mi riterò soddisfatto Sì sì Di nuovo coniglio Mi intrigava il coniglio Danni più 10 E tanta roba Tempo di attacco meno 6 Fa niente Sparo un po' più lentamente Ma danni più 10 Mi gusta Io non noto in realtà Che faccio tanti più danni Cioè faccio sempre 3 Prima facevo 2 Adesso 3 Wow Mi sparo triplo Era quello che effettivamente Prima mi aiutava Altro che Ha fatto col diavolo Ah ma sono altre armi Quella excreta Capito Proviamo col vomitus Oh Aiuto È vero che lui spona le anitre Andiamo col topolino Sarà basico Ma forse Può darci qualcosa Di soddisfacente Attacco le atto 20% Danni 10 Va bene Questo cos'è? Interagisci Ho paura Ah ok Semplicemente Un dado che Se ti va bene Ricevi qualcosa Mi andrà bene? Ma Ma ovviamente no Ma figuriamoci Sono one shot ora Porca Eva Andiamo Prima a fare un po' di Acquisti E dopo in caso Un po' di gambling Ho finito gli acquisti qua Scusami Non c'era Possibilità di acquistare Altra roba Andiamo allora A fare un po' di gambling Andiamo a vedere Se possiamo comprare Qualcos'altro Prima di sprecare Tutte le nostre monete Così Ah piano Madonna quanta vita Che ha questo tacchino Ah E vedete che tipo Rilascio ragazzi Delle mine Queste qua sono Cacche Più che mine Mi viene da pensare Sono delle tipo cacche Che fanno male ai nemici Quando ci passano sopra Eh Non è male eh Abbiamo ragazzi Un sacco di pollice verde Quindi troviamo Una frega Letteralmente una frega Termine tecnico Di monete Ogni volta che Finiamo una stanza Ultimo Generano una cacca Quando l'indicatore è pronto Ok Generati arrea Perfetto Una cacca Oppure piscio Direi che la cacca ci sta E io sono già morto Fuck Stiamo andando molto male Comunque Generano diarrea Generano una tartaruga Durante la corsa Ah la tartaruga è un mio alleato Mi sa Voglio provare la tartaruga Abbiamo delle piccole tartarughe Che combattono per noi Combattono per noi È vero Fanno qualcosa Se le tartarughe Non fanno niente Le tartarughe Ma serio Sono tipo i famigli Tipo Se facessero qualcosa Sarebbero più utili Le tartarughe sono molto Molto Deludenti Devo ammettere Tartarughe Fate qualcosa Sono lì immobile A non far nulla Ma aiuto Fortuna più dieci Di anni scritta meno uno Secondo me ne vale la pena Per fortuna più dieci Più probabilità di avere cibo E oggetti migliori Perché no E ora Rerulliamo Questo è un negozio Che usa come valuta Tipo dei girasoli Che sono qua sotto Police verde meno due Abbiamo tanto i police verde Possiamo anche sacrificarlo Per fare un po' più danni Più police verde si ha ragazzi Più monete Barra girasoli Si prendono alla fine Di una stanza Riproviamo col gatto Attacchi alato meno uno Police verde più otto Ok prendiamoci un po' di police verde Almeno Il mio obiettivo è Sconfiggere il primo boss In questa demo comunque Che sembra una cosa Molto più facile a dirsi Che a farsi Devo andare a fare qualche altro acquisto Sono messo malissimo Questo qua è morto Non so perché Questo qua no vero Ok Adesso abbiamo un police verde Di 31 Ci prendiamo tante di quelle monete Che metta basta Quando finiamo una cosa Salsicce e patate Madonna 71 monete Solo da un singolo nemico Continuerò a chiamarle monete Anche se sono girasoli O quel che le è Ma Continuerò a chiamarle monete io Oh vediamo se adesso Ha fortuna con sto dado Vabbè 50 girasoli Tempo di attacco più 30 È tantissimo Dio Cristo Sono diventato una Heavy machine gun Ruba vita più 2 Police verde meno 2 Sacrifico un po' di police verde Volentieri per Un po' più di ruba vita Salute massima più 2 Dani meno 3 No E volevo vedere se c'è la slot machine Ma non l'ho vista Io volevo fare un po' di gambling No basta 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 Andiamo a fare Andiamo a fare il boss Andiamo E' di nuovo l'uccello il boss E' di nuovo l'uccello il boss Almeno questa volta posso attaccarlo da lontano Ora faccio poco danno Ma almeno Ho un buon range E un buonissimo fire rate Soprattutto E il colpo triplo Può aiutarmi a fare un po' di crowd control Qua che Spona tante di quegli uccellasti Sto Spacocero qua Sto fagiano Sto Fenicottero Aia Dammi quel pomodoro Per curarmi un po' di vita Piano 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 Ora eh Ai 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 aia Piano 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 Via da qua Spona un sacco di nemici Sto fenicottero qua Staccazzaladra Dai 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 Ok c'ho anche le banane in casa Ora sono a full vita Ma c'ho anche delle banane per terra Per recuperare la vita Dai 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 su via Nice Oh Il primo boss è andato Dimmi che non finisce la demo Perché voglio continuare un po' Questa partita Secondo me sono abbastanza forte Ora come ora A meno che non ci muoio Contro sti tre nemici Dove vado qua? Interagisci Aiutami a nutrire il mio gatto Mi serve anche a me Un po' di nutrizione Per la mia Penny